Questo video riguarda i migliori 3 umidificatori da tavolo per sigari. Il vincitore della qualità nel nostro umidificatori da tavolo per sigari va all'Egoist Kit Umidor. Umidor in legno colore nero, con due scomparti interni e forbice tagliasigari. Igrometro e sistema di umidificazione interna. Capacità 25 sigari. Moneta metallica de' Medici applicata, confezionato in scatola regalo. Umidificatore da tavolo per la conservazione dei sigari. L'immagine del prodotto è puramente indicativa e i sigari contenuti nelle confezioni non sono inclusi nella vendita. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. L'alternativa è l'Egoist Umidor Cofanetto. L'Umidor è una scatola, solitamente in legno, atta a contenere e preservare i vostri amati sigari dagli agenti esterni come il cambio di temperatura e di umidità. Volete sapere perché? Perché umidità e temperatura influenzano le caratteristiche organolettiche del sigaro e ne possono modificare profumo e sapore. Quindi, per mantenere integri i vostri sigari preferiti, è necessario essere dotati di un Umidor per mantenere controllata l'umidità attraverso degli agenti umidificanti di diverso tipo e monitorata attraverso l'igrometro. Per questo è necessario scegliere un Umidor di buona qualità. Egoist, da anni sul mercato, è diventato un marchio di riferimento per gli amanti del fumolento e offre una vasta gamma di modelli e di tipologie di Umidor in legno. L'Umidor nella foto è in legno con esterno di colore nero, con igrometro e sistema di umidificazione interno. Ha una capacità 20 sigari di diverse tipologie. Il vincitore della Performance Premium e l'umidificatori da tavolo per sigari è il Egoist Umidor Cofanetto. Umidor in legno colore nero, con igrometro e sistema di umidificazione interno. Capacità 5 sigari moneta metallica de' Medici applicata, confezionato in scatola regalo. All'interno di un umidificatore, i sigari vanno conservati a un livello di umidità relativa approssimativamente del 68-74%, umidificatore da tavolo per la conservazione dei sigari. L'immagine del prodotto è puramente indicativa e i sigari contenuti nelle confezioni non sono inclusi nella vendita. Se ti piace il video apprezzeremmo un pollice in su o anche un commento.